Hai mai bestemmiato? Ma guarda, può succedere. Però, e poi io ho letto anche una cosa che mi ha fatto un po', mi ha fatto un po' girare le palle. Allora, se a uno scappa, anche una bestemmia, no? Non vuol dire che non sia credente, ok? Perché io ho detto che io credo in Dio, ma qualche volta mi è partita. Mi dispiace, ma sono umano. Ma non vuol dire che non c'entra niente, ok? Può succedere. Può succedere. È una cosa che siamo umani, può capitare, non deve capitare, specialmente in pubblico. Io cerco di non farlo capitare mai, perché naturalmente, no? È una cosa brutta, quindi non lo faccio. Però, se capita, io mi auguro che non capiti. Cioè, non sto dicendo che adesso voglio partire a bestemmia. Non lo voglio fare. Non è una cosa che faccio. Non mi piace. Non mi piace neanche perché... Non voglio che voi pensiate che sia una cosa bella. Perché non lo è. Non è bello neanche dire parolacce a raffica, capito? Non è una cosa bella. Dipende dall'ambiente, ma in generale non è bello. Bisogna essere comunque delle persone pulite e rispettose, in fondo, no? È importante. Poi la parolaccia ogni tanto ci sta. Bisogna sempre avere la misura giusta nelle cose. In tutto c'è la misura giusta. Ci sono cose di cui la misura è molto bassa, ci sono cose di cui la misura è molto alta. Bere acqua. Devi bere tanta acqua. Però se tu bevi 20 litri d'acqua al giorno, muori lo stesso, ok? C'è la misura giusta in tutte le cose. Niente è al 100% da metterti al rogo. E niente è l'elisir dell'eterna vita. Se ha senso ciò che ho detto, eh? Se ha senso ciò che ho detto. Mi auguro di sì. Sei una fav... Madonna, ma quanti... Anche tu sei una favola. Siete proprio delle favole. Hai mai pensato di tagliarti il pizzetto? Ma è l'unica...